Dopo l'incontro con il Mise, giudicato deludente e inconcludente, sindacati e lavoratori si sono riuniti in un'assemblea per fare il punto sulla vertenza FIMER, una situazione che ancora non dà certezze. La novità è che ci sarebbero, come ha informato la società, 15 investitori interessati ad entrare nell'azienda. Ne sarebbe stato scelto uno con il quale verrà formalizzata l'operazione entro il 15 marzo. Ancora una volta i sindacati ribadiscono che la tempistica è fondamentale. Invece che stringere su uno o due investitori, questi interessamenti stanno aumentando e quindi c'è il rischio che si allunghino ancora i tempi e qui invece c'è la necessità che ora stringano su uno o due e quindi l'impegno che si sta cercando anche tramite il ministero di istituzioni locali di stringere entro il 15 marzo, di avere uno o due nomi su cui avere un impegno definitivo di entrata nel capitale di maggioranza della società perché quello sarà fondamentale, che qui c'è bisogno di un soggetto che abbia le spalle larghe dal punto di vista finanziario ma anche industriale e di prospettiva. L'azienda ci chiede ancora tempo, chiede 10 giorni in più per poter concludere un eventuale accordo con un investitore e dare l'esclusiva ad uno dei 15 potenziali investitori che si sarebbero presentati nell'ultimo periodo. Ci conferma invece che rispetto agli investitori precedenti che avevano manifestato interesse e con cui la proprietà stava portando avanti delle trattative, uno si è sfilato oppure la proprietà lo ha fatto sfilare, questo non è molto chiaro e quindi non è più presente al tavolo di discussione. Quindi ci sono 15 potenziali investitori, alcuni sono soggetti industriali, altri sono fondi e la proprietà darà l'esclusiva ad uno di questi entro il 15 marzo. Questo è il primo impegno che è venuto fuori al ministero. Oltre ovviamente all'impegno di fare tutte le settimane degli incontri in regione toscana in cui dovrà emergere come riparte la produzione, se riparte e con quale liquidità. Quello che stiamo chiedendo ai lavoratori, oltre a spiegare l'incontro, è anche quello di supportarci con eventuali iniziative qualora l'impegno del 15 marzo non venga rispettato o addirittura dagli incontri settimanali in regione toscana non emerga niente di concreto. Fino ad oggi il metodo utilizzato era che i nominativi dei potenziali investitori venivano comunicati al mese e il ministero faceva le verifiche del caso. Ieri c'è stato detto invece dall'azienda che per gli accordi riservatezza non sarà possibile in questo momento enunciare i nominativi al mese e credo che questo sia un elemento di forte criticità perché il ministero rappresenta una forma di garanzia per tutti. È stato fatto solo in nome di un investitore e secondo me è assolutamente importante, secondo noi, che vengano dichiarati anche gli altri investitori. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è una domanda a cui non hanno risposto, che ho posto personalmente è quella con quali risorse di fatto si riesce a percorrere il cammino da qui a quando entrerà un investitore perché è importante che la riproduzione riprenda compiutamente, si dia risposte all'ordine dei clienti, si rassereni la situazione perché l'altro fattore è che si sta perdendo know-how. Da ottobre a oggi, dalla ricerca e sviluppo, sono fuoriuscite circa 30 figure professionali che erano importanti per il futuro dell'azienda. Quindi c'è bisogno di certezza sia per rassicurare chi lavora all'interno dello stabilimento e per garantire la continuità nelle professionalità, sia per l'appunto per riprendere con pienezza la produzione e, da questo punto di vista, anche dare manforte ai terzisti e ai fornitori. Su questa domanda non c'è stato risposto perché chi oggi gestisce l'azienda ha detto che prima deve fare un confronto con i commissari nominati dal Tribunale ma un altro aspetto che a noi preme molto.